Oggi parliamo di influencer marketing. L'influencer marketing è una modalità di marketing che utilizza le capacità di persone molto note, dette influencer, per promuovere prodotti o servizi. Gli influencer sono al giorno d'oggi molto diffusi, però alcuni complottisti vedono questa tecnica di marketing già presente da molti, molti e molti anni. Vi sono addirittura tesi che sostengono che la Coca-Cola abbia iniziato un'azione di marketing andando a coinvolgere degli influencer e persone di spicco cercando di far loro indossare dei capi di colore rosso così da richiamare al colore del proprio brand. C'è chi sostiene che gli occhiali rossi di Elton John siano frutto di un accordo in tal senso, però anche la tutina rossa dell'uomo ragno, le treccine di pipi calzelunghe, il gabibbo, il mantello di Superman, il grande puffo, i più tendenziosi e sfrontati si spingono oltre, sostenendo addirittura che alcuni celebri personaggi della storia politica nazionale e internazionale siano stati coinvolti nel complotto. Noi non ci spingiamo tanto in là, anche se siamo certi che sicuramente la Coca-Cola abbia coinvolto qualche nome influente convincendolo di vestirsi di rosso per sostenere il proprio brand. Questo è influencer marketing. Me a me, io sono il gabibbo, mi piace la gazzosa.